Ieri pomeriggio si è verificato un incidente stradale sulla strada statale 18 Tirrenica all'altezza di Curinga, con un bilancio di un morto e un ferito. Il sinistro coinvolge un camion che per cause attualmente in corso di accertamento si è ribaltato finendo fuori dalla carreggiata. Il conducente del mezzo pesante, un imprenditore agricolo di 53 anni identificato con le sole generalità A-G, ha perso la vita nell'incidente. Un altro uomo di nazionalità straniera, dipendente della vittima, è rimasto ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale del 118, l'elisoccorso, gli operatori dell'ANAS, i carabinieri che hanno avviato le indagini per determinare la dinamica dell'evento e vigili del fuoco del comando di Catanzaro di staccamento di La Messia Terme per garantire la sicurezza del sito, recuperare la salma e mettere in sicurezza il veicolo coinvolto. La strada statale 18 nel tratto interessato dall'incidente è stata chiusa al transito fino al completamento delle operazioni di soccorso.